Nell'episodio precedente La cosa più brutta che mi potrebbe capitare è cadere con un aereo Già odio andare in aereo, è terribile Mi mette un'ansia assurda E se l'aereo caresse in un oceano profondo dove ci sono tanti pesci? Iniziamo a versi un po' l'aereo Oddio, casca Casca giù Guarda Timmy, poveri Ma Timmy non si tiene Sbattendo la testa due ore come non si sa cosa È già morto, Timmy È morto, è morto, è morto, per forza Addio Attenzione Che cavolo è questo qua? È Iron Man Ma che è Iron Man? Ci sta finalmente portando via nostro figlio Uh, bello Ma dovresti volerlo difendere È dietro qua Dobbiamo picchiarla Ma fa schifo Attenta È velocissima Guarda però Doppio accendino Luce incredibile Adesso sì che cambia qualcosa Stiamo iniziando a morire di freddo Allora, il nostro personaggio ha scritto delle notte Prima di tutto vuole ritrovare Timmy Nah Anche se tu non vuoi Se lo possono ottenere gli indigeni, dai È un peso in più Povero Timmy Poi dice di farci il nostro accampamento Ok Dopodiché dice di trovare un modo per poter stare più tempo sott'acqua Di sicuro Ah, io non ce l'ho questo Probabilmente perché tu hai notato meglio di me Esatto Quindi sicuramente c'è qualche posto che possiamo esplorare solo se possiamo stare per molto tempo sott'acqua per la tua felicità Non lo farò mai Te lo dico già Non lo farò mai Il prossimo è il più bello Trovare un modo di andare dentro quel buco gigante che abbiamo visto Cioè, io non ci voglio andare lì dentro E ragazzi, come va? Io sono Ferinichi E io sono Steph E questo gioco è The Forest Ebbene sì, siamo tornati su The Forest Perché tornati? Perché tanto tempo fa avevamo fatto un episodio singolo di questo gioco Ed è probabilmente la serie che ci avete chiesto di più di rifare Cioè, ogni giorno ci sono tantissimi commenti Continuate The Forest, continuate The Forest E quindi abbiamo deciso di provare a fare un altro episodio Esattamente, abbiamo deciso di provare a fare un altro episodio E vedere un pochettino come va Quindi in base ai likes che metterete Alle views che farà questo video Ai commenti che farà questo video Decideremo se continuare la serie una volta per tutte Perché a noi il gioco piace Però comunque capiamo che è un po' diverso dal nostro solito stile di giochi, diciamo Diciamo che, allora, il survival io penso che sia molto genere nostro Il problema è che è un po' horror Esatto E contando che non stiamo più portando horror nel canale come avevamo fatto agli inizi Non sappiamo se a tutti può piacere questo genere Quindi almeno ci proviamo Un tentativo che si può fare Anche perché a noi il gioco piace tantissimo Esattamente The Forest ci piace davvero tanto Quindi ci piacerebbe tantissimo anche poterlo continuare assieme a voi Ovviamente ci tengo anche a dire che inizio video avete visto un breve recap Anche perché tantissimi avete riguardato quell'episodio E vogliamo evitare di rifare le stesse cose Quindi oggi andremo un pochettino avanti Esatto, quindi siccome nell'altro episodio Era andata molto male Nel senso che avevamo trovato un postaccio dove stare Diciamo che siamo un pochettino ripartiti E secondo me, guarda un pochettino Ok Quel fiume lì in fondo potrebbe essere un ottimo posto Allora, io ti farò rinnotare una cosa prima di andare Ma hai visto che l'aereo è caduto proprio a fianco a un accampamento degli indigeni Ascolta, la conosci la fortuna che abbiamo? Certo, questa è sfortuna ragazzi È davvero sfortuna Io infatti allora direi di allontanarci subito Esatto Così evitiamo di dargli fastidio Evitiamo di litigare Perché io non ho voglia di litigare con gli indigeni Un passo alla volta Vieni, vieni, bravo Oh aiuto Dammi la mano, dammi la mano che casca Tieni La mano Allora No, non rendermelo Dai Signor Steph Fai la brava, sì, mi dica Siamo appena Arrivati No, caduti da un aereo Cioè, siamo arrivati in un'isola deserta Tipo Lost Sì E hai perso i capelli Dalla paura Sì, mi hai perso Sì, sai come È un grande spavento cadere da un aereo Mi scusi Cioè, come può criticarmi Dobbiamo collaborare Perché Lost insegna Iniziavano a litigare tutti tra di loro E poi morivano tutti Capito? Ok Quindi dobbiamo collaborare Allora, la prima cosa che Oh, ho visto una cosa Che cosa? Vieni, vieni Seguimi L'hai vista? È la La punta dell'aereo La testa dell'aereo Non so come chiamarla Oh mio Dio, scherzi Andiamo Andiamo Troveremo qualcosa Perché so che nei pezzi dell'aereo Ovviamente troverai degli indizi Qualcosa che potrà essere utile Per capire cosa è successo Perché alla fine, ricordiamoci Ci hanno portato via Timmy Esatto Iron Man Poco ci importa Però Non si dicono Devi far finta che ci tieni Sarebbero poche più da sfamare Quindi Non vorrei dire Fai finta che ci tieni E quindi Se gli altri passeggeri Metti che sono morti Perché adesso io non lo so Comunque non abbiamo trovato nessuno Comunque sono spariti È sparito Timmy Qualcosa di strano Diciamo che non quadra C'è per forza qui sotto, no? Può essere ancora vivo? Secondo te è vivo? Boh Magari Stai riposando Scusi Signore È tutto ok? Signore Non ci sembra che stia molto bene Ha un brutto colorito Ho provato a dargli un colpo di ascia Ma non si è svegliato Ok Vabbè Volevo andarci un po' pesante Sai come Che cosa ho preso? Ho preso una pietra Allora Te l'ho tirata in faccia Allora Pezzi del computer Facciamo una cosa alla volta C'è una pistola Una flare gun La pistola è di flare Non so cosa ci possa essere utile Per dar fuoco agli indigeni Pezzi Pezzi di pc Questi ce li Fammi vedere Flare gun Allora La puoi usare come arma Oppure per creare delle distrazioni E sto controllando la descrizione Ti ho tirato una pietra in faccia Quindi sarà molto utile E qua Ragazzi c'è l'indizio Qua c'è un indizio importante Allora Cerco di leggere così TV stars wife dies Quindi La star Della tv Aspetta Aspetta The tragic Accident Riesci a leggere? Sì riesco a leggere Perché sono bravissime A leggere queste cose Ok E quindi che dice? Definitely real weekly È una rivista Penso di gossip Non lo so La star La moglie della star Della tv Ok È morta E ti farai notare che Nella copertina Ci siamo noi e Timmy Esatto Quindi siamo noi La star della tv Che vuol dire? Dimmi che non è bellissimo Questa è bella Vero? Questa è bella Cerchiamo il punto migliore Insomma un punto piano Dove stare E ci accampiamo Ok? Allora Allora è molto importante Anche raggiungere facilmente Gli alberi Perché Esatto Perché ci servirà Tantissimo per costruire Ci servirà tantissima legna Quindi Trova un posto piano Ma anche un posto Che ci permetta di raggiungere Facilmente C'è una foresta qui sopra Quindi anche guarda Qualche alberello qua Qua è perfetto Questo è bello Questi alberi Ascolta Li teniamo E facciamo un rifugio Sotto gli alberi Poi andiamo a prendere Quelli lì sopra Te lo dico Non ti azzardare A buttarli giù Ok? Fammi vedere Ok no Sono buone Sono buone Ho rischiato di mangiare Delle bacche Avvelenate Ma erano buone Allora Non ci devi provare Poi tu dovresti essere Sperzo di bacche Scusa E infatti Le riconoscete subito Queste sono le famosissime Nonchalanus Bavanus Ok? E cosa fanno? Sì? Fanno venire mal di pancia? No 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 Allora Fanno venire tanta Non ci incischi Signor Steph Ok Inizi subito a piazzare Il primo rifugio La cosa più importante Dove lo mettiamo? Aiuto 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 C'è un cocodrillo Un cocodrillo Esistono i cocodrillo Aiuto Ma che paura Oh mio dio Oh mio dio No raga Mi è comparsa un altro Ma se No io lo uccido Lo uccido Lo uccido Ma se passa è fortissimo Uccido Madonna Mi ha fatto malissimo No vattene Non mi sto uccidendo Scappa Scappa Aiutami Scappa Aiutami Corri Ti prego No ragazzi c'è Ci mancavano solo i cocodrilli Ma mi è sceso un colpo Tu non hai capito Quando l'ho visto correre verso di me Ti giuro Ho perso vent'anni di vita Sì vabbè davanti a noi gli indigeni Segui Un altro cocodrillo Aiuto ragazzi Allora 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 calmi Ci stanno rovinando il sogno Di farci il rifugio Il rifugio perfetto Te ne stai rendendo conto Ci sono delle tende qua No 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 C'è qualcuno vivo? Scusi Salve Ci date una mano vi prego Oddio Non ne ho idea dove siamo Di dove siamo Siamo in un postaccio E sta diventando notte Siamo in un postaccio Davvero incredibile Ma che dici di farcelo qua al rifugio? Lì sopra abbiamo gli alberi Che dici? Ma provvisorio? Sì provvisorio Che dobbiamo fare Che dobbiamo fare Va bene Alla fine ci conviene fare Ascoltami un attimo Qualcosa di provvisorio Quindi rifugio base E il fuoco Il fuoco che ci servirà Per cucinarci del cibo E poi quando farà giorno Andiamo ad esplorare Se troveremo zone migliori Ci facciamo rifugio Da un'altra parte Cioè non mi viene in mente altro No sì qua non possiamo restare Perché è una zona Abbastanza brutta Sì ma tanto non possiamo Girare di notte Ho paura che gli indigeni Ci possano attaccare Quindi è essenziale Avere il primo rifugio Poi andiamo proprio Totalmente dritti Dalla parte opposta Perché stiamo davvero In una parte finale Della mappa Ok E secondo me La zona migliore Dove stare è la spiaggia Perché così abbiamo Totalmente il mare Da una parte Non ci sono cocodrilli E dovrebbe esserci Delle zone Aiuto Che cosa? Non lo sentivi? Oh no Accidenti a te Mi è sceso un colpo Aumento il fuoco Sono due Sono due Aumento il fuoco Sono due Sentivo dalle Dalle cuffie Cose che urlavano Mi sono girata Mi è sceso un colpo Aiuto Allora Allora Pensiamo a questi due Ok Io ti allontano l'altra Una testa E cerchiamo di fare Del nostro meglio Insomma Attenta non prendere colpi Fai con calma Para ai suoi No 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 Ho preso colpi Non ho preso colpi E l'ho fatto fuori Quindi per ora Sono tranquilla Dove è finita l'altra? Non lo so Eccola 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 Colpiscimi Vieni Attaccami Che brutti che siete A livello diverso Mamma mia Hai capito? Noi sopravviveremo Non tu Tu devi morire Aiuto aiuto Madonna santa No Aiuto Aspetta Ok Avevo l'inventario Avevo l'inventario Mi vedo questa cosa Che mi sta correndo in faccia Ma dimmi te Ci stai dando fastidio Ok Noi stiamo facendo campeggio Vogliamo cucinare il marshmallow E tu ci stai disturbando E i conigli E i conigli Aiuto un altro Dietro di te Madonna Madonna Dovete morire Non ce la faccio più Mi stanno facendo venire Ti giuro L'altro è morto almeno Sì Un altro Un altro Dove? Ma dai è pieno però Non va bene se si L'abbiamo scelta bene La zona dove fermarti per la notte Ma perché? Perché ci sta capitando tutto questo? L'abbiamo scelta davvero benissimo Grazie a tutti Abbiamo il nostro posto perfetto Qua è perfetto Alberi vicinissimi ma allo stesso tempo Una bella distanza da tutte le cose brutte Assolutamente sì Che cos'è questa costruzione secondo te? Non lo so però penso che ci puoi salire sopra O no? Che cos'è? Non ci provo aspetta C'è una corda aspetta Ok Mi vedi? Allora anche se l'hanno fatto gli indigeni La possiamo usare come torre di vedetta Per vedere se è tutto ok Ci sono soldi, pillole un pochettino di cose Attenta che mi stai spingendo di sotto Aspetta prendo tutto Finalmente possiamo farci la nostra prima casetta Dobbiamo farci l'hunting shelter Perché esiste Anzi la small cabin non è male 13 tronchi non sono troppi Che dici? Dai inizia Ti va? Sì È bellina eh Perché no? Perché no? L'entrata quale dovrebbe essere? Così E dov'è l'entrata scusami? Questa Così tu prendi ed entri Vedi che questa è la finestra Ah sì ok ok Quindi solo legna serve Sì Dobbiamo buttare un po' di alberi giù Dai dai facciamolo al volo Così almeno il primo rifugio è fatto Ok Mentre inizi a buttare giù qualche albero Piazzo anche un fuoco Fatto meglio Ti stavo per dire di fare il pocherello Quello con le pietre E lo piazzo qua davanti Sì assolutamente Così E inizio anche a metterci un po' di cose Guardate che bello il sistema di costruzione di questo gioco Ok ci manca un ramoscello e due pietre Quindi questo è semplicissimo Allora qui ci sono ramoscelli ma io ne ho Cioè sicuramente ne ho Quindi posso venire a metterlo Ok perfetto Sì 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 infatti immaginavo Che quello lo finiamo senza nessun problema Riprendo un sacco di pietre Che qua è pieno Vai finisci Ma l'ho dimenticata Sì l'ho dimenticata Così vediamo sia il fuoco rello Sia la base che piano piano si costruisce Esatto 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 Finisci Eccolo Bellino Allora ho fame Ho sempre fame Guarda come nella realtà il mio personaggio Ha sempre sempre fame La base sta prendendo forma Allora siamo a 4 di 13 Infatti ne servono 9 Forza Tagliare legna è faticoso Forza forza Butta giù È faticosissimo Butta giù l'albero Allora lo voglio far cadere verso la spiaggia Se ci riesco È faticosissimo Vediamo Prendo anche il ramoscelli Vai Vai No perché vai dall'altra Uno Due Eh vabbè Ok Ah eccone uno qua L'altro Tronco Perso Tronco Siete fastidiosi comunque ragazzi Cioè Ci dovete lasciare in pace Non vi abbiamo scocciato Abbiamo evitato a posto i vostri accampamenti Perché ci scocciate Poi te lo fate anche una fine brutta Cioè ci fate anche una figurata Prendi il tuo corpo Dimmi che non ci fanno una figuraccia Scusami Sì Ogni volta schiattano Dai non è una bella cosa Ce lo lasciamo qua Perché lo utilizzeremo Perché noi possiamo fare delle sculture Le figi Con i pezzi di indigeni In modo tale da fargli paura Perché loro Quando stanno arrivando Vedono appunto Altri loro simili ammazzati Si spaventano E ci lasciano in pace È una cosa un po' macabra Però ragazzi Cioè come vedete Sono loro che ci danno fastidio Quindi ci dobbiamo difendere Ma infatti Cioè alla fine Al meglio che possiamo Cioè non siamo stati noi Perché dai non siamo andati noi a cercarli A volerli distruggere Disturbare E tra tutto la colpa loro È vero Quindi noi ci stiamo semplicemente difendendo Aiutami che prendiamo quest'albero Sì Sì Vabbè dai C'è la finestra Però alla fine ha senso no? Più o meno L'avrei preferito dall'altra Vieni dentro Dai no è carina Almeno da questa parte vediamo bene Abbiamo la finestra qui giusto? Sì Abbiamo una visione Col fuoco Di eventuali indigeni Che possono Guarda che bel panorama Tre tronchi Un fuocherello E degli indigeni morti Ci stiamo tutti e due È carina come cosa Se vi state chiedendo A cosa serve Praticamente noi la notte Possiamo dormire E passa la notte E si torna il giorno dopo In modo tale da non dover Stare lì al buio Al freddo Con la paura degli indigeni Esatto Quindi è utilissimo Io semplicemente Serve anche per salvare il gioco Esatto Che anche quello È assai importante Comunque direi di fermarci così Sì Dai sono soddisfatto Alla fine abbiamo ammazzato Un sacco di indigeni Allora È iniziato male come episodio Perché non abbiamo trovato Inizialmente una zona Per fare il rifugio perfetto Però direi che Ce la siamo cavata alla grande Siamo riusciti a trovare Una zona che personalmente Mi piace tantissimo Esatto Per costruire Un rifugio gigantesco Gli indigeni continuano A darci fastidio Quindi direi che È andata bene No? Sì Sono soddisfatto Totalmente soddisfatto Poi abbiamo già un po' di tronchi da parte Il fuocherello pronto La casa dove dormire È salvare Adesso faremo un po' di effigi Per farci il perimetro Così gli indigeni ci lasciano in pace E costruiremo altre cose fantastiche Piano piano Per rendere la base Anche un po' più agibile Assolutamente Dopodiché Dovremo esplorare l'isola Per scoprire un po' di cose Per cercare di capire Cosa sta succedendo E vedere se c'è qualche sopravvissuto In qualche modo Perché magari troviamo qualche alleato Sì perché ricordiamoci anche Che abbiamo la lista dei passeggeri La lista dei passeggeri Non sappiamo se sono vivi o sono morti Non sappiamo nulla Quindi dovremo anche esplorare E scoprire tutti i misteri Di quest'isola Per ragazzi il video è così Se non ci lasciateci un bel like E se è la prima volta Che vedete il nostro video Potete considerarli Da iscrivervi Per non perdervi gli altri episodi Ciao E alla prossima Ciao 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 Grazie per la visione!